La cultura e valorizzazione del territorio, con un occhio all'ambiente e l'altro alla migliore musica da concerto. Note nel bosco, la realtà culturale nata a Montereale, nell'Aquilano, è tornata con un nuovo evento, nella consueta ma comunque suggestiva location della pineta di Patrignone. Il terzo anno consecutivo che veniamo qua a Lugio, un posto magico e bellissimo, e a noi ci fa sempre molto piacere portare i grandi classici della musica qui, in un posto immerso nella natura e con un sacco di persone pronte ad ascoltarci. C'è sempre una grande emozione, un grande piacere per noi far conoscere anche i nostri strumenti a delle persone che magari non ne hanno mai visto uno. Musica a cura dei solisti aquilani, che con un quintetto d'archi hanno interpretato le composizioni di Mozart e Mendelssohn in uno scenario inusuale, che l'organizzazione, composta da numerose associazioni locali, usa da anni per attrarre nei propri eventi culturali e ambientali. La valorizzazione di questi nostri luoghi sicuramente non ha una quantificazione economica. Questa è una pineta bellissima, importantissima, sulla quale abbiamo fatto un progetto con l'ufficio della ricostruzione 2009 per la valorizzazione di questo posto. Ieri sera abbiamo fatto un altro evento a Fonte Paloma tra Cabbia e Cesaproba, anche lì c'era stata una presenza di circa 500 persone che comunque sono persone che girano e conoscono il nostro territorio e tornano sempre di più. Grazie a tutti.